Ciao vlog! Io non lo so se voglio dire cosa stiamo facendo oggi non credo di riuscire a dargli giustizia a parole motocross snow park io con gli sci kart cross buggy da neve rende l'idea prende l'idea non lo so andiamo vediamo buongiorno a voi signori adesso andiamo a vedere cosa facciamo adesso sai cosa faccio mi tolgo il casco mi abbronzo guarda cosa gli è arrivato piccola sassata anzi ghiacciata avevo giusto giusto quell'unico pezzettino di naso libero ora è stato un po' un po' un po' un po' un po' un po' era un po' di chat avete un po' quattro nonaito la st wollen tutte c'è perduta due ore io dico adesso prima veramente che il gatto magari deve scendere abbiamo Quell'oretta qua che possiamo sfruttarlo a fare qualcosa Per non avere tempi morti Quindi? E quindi vediamo se riusciamo a fare schifo Anche oggi Le idee quelle belle Di prima mattina Questa è tanta roba E cos'è? Che giornata ragazzi Che giornata che tiriamo fuori Che giornata No, 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 no. Solo il mottolino queste cose Eccoci tornati Beh, al terzo try Farlo al terzo non ci credeva nessuno Neanche io Poi fa ridere perché tipo io arrivavo sul salto, no? Cioè perché ci tocchiamo la mano quando io sto quasi per atterrare Quindi ti fai tutto il salto Sì, fai Stacco Sì Infatti quando sei arrivato hai detto ci siamo Bella, 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 bella Bella, caso È stata una figata È stata una bomba, è stata una bomba Bello, bello Adesso Adesso dobbiamo saltare assieme Adesso saltiamo assieme No, adesso sai cosa facciamo? Scusami Ian salta con la moto e tu salti con gli sci Beh, per rompermi tutte le ossa direi che è un'ottima idea Beh, io l'ultima moto che ho guidata È una elettrica senza marce e ho sbagliato i freni Sai usare le marce? Sì Sai usare le marce? Sì 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 Veramente? Della macchina Ciao a tutti Attenzione Poi Dobbiamo fare un corso accelerato di moto con le marce Con le marce Esatto Gli scooter non sono ammessi Come direbbe Irene Saderini Ma che uomo sei? Ma dov'è Irene? Per me è stato addormentato Vedrai che adesso con qualche cosa arriva Ma come sempre, sempre in ritardo Sì Vabbè, te lo dico io Ieri sera con i due ginepi di troppo Due di troppo, non due e basta Esatto Erano i due di troppo, non i due di prima Più la pizzuccarata leggera Cose incredibili stanno per accadere, amici Altre cose incredibili stanno per accadere Ragazzi, tutte le musiche del vlog sono composte e scritte da me Buongiorno Figa che freddi No dai, non fa così freddi Buongiornissimo Ce l'abbiamo fatta Terzo tentativo Buongiorno Cosa avete fatto? Ma avete fatto tutto? Abbiamo già fatto il 5 No, veramente? No, ma abbiamo, bravi Ma come avete fatto il 5? Ora che sia, abbiamo già fatto tutto Cioè, tipo Mentre io arrivo così Nadella, quando fai queste cose Ti voglio bene Eh, vabbè, allora basta Possiamo andare Andiamo in pista Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Ciao 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 Stiamo andando a soccorrere i rene Alla fine Alla fine Che bella è essere avanti un metro Da che parte mi vuoi tirare? Qua Mi taggai Ma sì, se no Easy Stengo io Mi tiene rocca Tutto a posto Se mi passi sopra Tu stai combinando Scusami Ah, qua Spacco tutto Ah, c'era la freccia Prima ho accettato la polizia Prima in strada Qua questa qua Praticamente la puoi guidare Sia così col volante Che da qua col manubrio Vi presentiamo i piccoli aiutanti Di Pappo Natale Eccoli qua Mauro piccolo Neanche tanto in realtà Il piccolo Mauro Il piccolo Tecno Mauro Il piccolo Mauro Che si sta accertando Che io non scivoli via mai Infatti tutti lo chiamano Maurino Che io non scivoli via mai tutto quello che va è è gotti ok grazie 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 scacciato allora direi che possiamo concludere devo dire una cosa importantissima concludi tu il vlog parla Irene parla io sono ancora scioccata non posso dire niente devo ancora riprendere domani sfida nel prossimo video allora praticamente questa è stata la giornata in cui Ian Rocca e Adelia Lorenzi sembravano quelli fichi invece domani quando guidiamo in pista di ghiaccio vediamo secondo me non ridete più tanto ciao grazie grazie grazie